Stavo navegando in rete e mi sono imbattuto in un video di un candidato di Fratelli d'Italia che tra prendeci un vecchio amico, Simone Pelloni, che ha tirato fuori una cosa che io non sapevo, che fa gridare allo scandalo. E c'è chi continua a votare il PD. Ascoltatelo. Finalmente una bella notizia. Il comune di Modena ha donato 490.000 euro per ristrutturare i campi nomadi. Sì, avete capito bene. 490.000 euro per i campi nomadi. E pensate che ci sono solo 7.000 case popolari in Emilia Romagna da ristrutturare. Sì, avete capito bene. Dopo il governo Schlein e altri ci sono 7.000 case popolari da ristrutturare. E non come suggerisce la euro poltronata Salis da occupare. Io adesso sto ironizzando, ma non c'è molto da ridere. I soldi dei contribuenti devono e possono essere spesi meno. Mi raccomando, continuate a votarli. Continuate a farvi prendere in giro. Anche in questo caso, ogni dubbio e recito non vale nulla. Che qua di dubbi non ce ne sono. Pensano prima agli altri. Poi a noi, forse. Anche in questo caso, anche in questo caso, Anche in questo caso, anche in questo caso,